BIMU Si è tenuta a Milano dal 30 settembre al 4 ottobre la 29esima edizione di BIMU, Biennale della macchina utensile, robotica e automazione. Alla fiera, organizzata da Ucimu e CIS, hanno preso parte oltre 1.000 aziende, di cui la metà straniere. Abbiamo visto oltre 3.000 macchine esposte per un valore superiore ai 450 milioni di euro. Andiamo a sentire la voce dei protagonisti. La Cuca è un gruppo multinazionale che ha sede in Germania, ad Augsburg, a 80 chilometri da Monaco. È quotata in borsa, la borsa di Francoforte, e ha avuto negli ultimi 5 anni uno sviluppo notevole. In particolare quest'anno la Cuca ha acquisito un'azienda che si chiama Rice Robotics, un'azienda, un integratore che sviluppa robot e soluzioni complete per la saldatura o per altre tecnologie. E quindi ha acquisito un fatturato di oltre 100 milioni di euro di fatturato, e sono 1.300 persone, hanno anche una grossa presenza in Cina. Per l'anno prossimo la Cuca prevede un fatturato di 2.700 miliardi, e un organico superiore a 10.000 persone che consente di dare uno sguardo di ottimismo al futuro sviluppo dell'azienda nel suo complesso, nel mercato mondiale. Noi siamo un'azienda giapponese, come tutti sanno, una grossa multinazionale. Tuttavia, dovendo lavorare e operare sul territorio italiano, la Mitsubishi ha capito appieno quella che è l'importanza del mercato italiano e europeo più in generale. Un mercato non fatto molto principalmente di numeri, quanto di qualità, non tanto di quantità, quanto di innovazioni. Adesso sappiamo bene che il mercato italiano è, come dire, un crogiolo di innovazione, di creatività, di inventiva. E questo Mitsubishi lo capisce molto bene, perché è estremamente attenta a queste che sono queste nuove tecnologie, queste nuove funzionalità richieste. Exagon Metrology è un gruppo internazionale che si occupa di produzione e distribuzione di sistemi di controllo dimensionale. La nostra specialità è quella di costruire macchine e sistemi in grado di misurare e valutare le dimensioni dei pezzi e fornire all'utente informazioni per valutare la qualità del processo. Qui a BIMU siamo presenti con tutta quanta la gamma di prodotto proveniente da aziende diverse nel mondo che producono diverse tipologie di sistemi di misura, dai bracci articolati ai sistemi laser, alle macchine di misura tradizionale, alle macchine ottiche e, non ultimo, ai sistemi di automazione della misura dimensionale. L'azienda si occupa da 51 anni di pre-registrazione, quindi a misura e regolazione degli utensili fuori macchina. È un prodotto di altissima qualità, di precisione, è un prodotto da un certo punto di vista accessorio alla macchina utensile, che permette di ottimizzare i tempi di lavorazione per le macchine e quindi ridurre i costi e aumentare la produttività. Noi da 21 anni siamo in America, quindi il nostro secondo mercato a livello mondiale è il mercato americano. Subito dopo il mercato americano abbiamo Giappone, che è un mercato molto esigente dal punto di vista della qualità, quindi diciamo un fiore all'occhiello. Da qualche anno a questa parte è Svizzera, è diventato un mercato molto importante perché è esigente dal punto di vista della precisione e quindi siamo riusciti con sforzi importanti ad imporre un po' la nostra qualità anche lì, quindi questi sono i due mercati principali diventati in questi anni. L'associazione ha avuto un'evoluzione importante in questo ultimo anno, che è il 2014, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con la Serbia. Ad aprile dell'anno scorso abbiamo fatto la prima conferenza, a novembre di quest'anno avremo altre due giornate dove presenteremo l'attività del settore in Serbia, ma la cosa più interessante è che delle 11 aziende che abbiamo portato in Serbia ad aprile, sei stanno già lavorando con la Serbia, in questi giorni qua in fiera abbiamo saputo che altre due probabilmente avvieranno anche loro una collaborazione, quindi credo che sia stato un grande successo. Robot Units è un'azienda austriaca, la quale ha sviluppato un sistema, un kit modulare per l'automazione che a differenza di tutti gli altri sistemi resiste alle vibrazioni, per questo si chiama Robot Units, unità per robot, sviluppiamo kit modulari, banchi di lavoro, componenti per l'automazione, assi lineari, conveyor, protezioni, tutto è un kit che sta attorno e round al mondo della robotica. La differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri profili di alluminio è che è l'unico sistema al mondo che resiste alle vibrazioni ed è sempre modificabile. Il mercato stranamente rispetto a tutti i parametri economici che sentiamo quotidianamente è un mercato che sta dando grosse soddisfazioni, è un mercato in crescita, ho parlato anche con altri operatori, tutti sono abbastanza entusiasti per come si sta muovendo, c'è una propensione ormai per gli operatori del mercato della visione di puntare all'estero e quindi l'estero è ancora da traino, soprattutto i mercati asiatici e i mercati emergenti. Stiamo vedendo anche una crescita sul mercato americano perché è ritornata a industrializzare il mercato americano, quindi c'è una richiesta. Avevano perso un po' di competenze e quindi stanno cercando competenze in altri territori. L'Europa ha sempre investito anche negli anni bui e quindi oggi ci troviamo in una posizione abbastanza privilegiata. Diciamo dal punto di vista robot abbiamo iniziato nel 2014, quindi a inizio di quest'anno la distribuzione di un nuovo prodotto, uno SCARA coreano, che utilizzano per esempio ad assemblare l'iPhone a Taiwan. È una gamma proveniente dalla Corea del Sud che eravamo andati a verificare direttamente a metà 2013 per avere una seconda gamma di robot SCARA più economici, meno performanti e per applicazioni semplici e cheaper da parte del sistema integrator. Dopodiché abbiamo iniziato a distribuire una robota cinematica parallela, un prodotto svizzero molto performante per applicazioni di packaging primario e secondario, food, medicale e farmaceutico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!